Alessandro Speranza è un frequentatore di gioco digitale non solo live ma online tantissimo, vero? Anche online, molto. Serve tanto, è una palestra, ci si allena e poi ci si prepara agli eventi live. Tu hai fatto il tavolo finale nell'ultima occasione in cui abbiamo commentato Sam & Sam. Esatto. Io ricordo un giocatore che è stato, diciamolo, il tuo giustiziere. Primo uno still, devo dire, è stato molto bravo con 10.8 se ben ricordo, e poi 10.7, tu te lo ricordi meglio perché è la mano che ti ha cambiato il torneo, e poi un'altra situazione importante alla fine che ti ha messo fuori, era un coin flip, ricordo bene? Assodon a Jack Jack. Cioè la mano con 17 dal punto di vista tecnico non è tanto bella né da parte mia né da parte sua perché comunque io ero committed dopo il tribet, quindi lui pushando 17 non ha molta chance che io foldi e quindi va a giocarsi il colpo con una mano abbastanza scarsa, no? E quindi io ho sbagliato a foldare perché forse ho aver valutato la sua mano e ho sbagliato e niente. E poi sono uscito in flip, passo donna contro Jack Jack standard. Un tavolo finale, un bel premio, una bella soddisfazione. Questa volta un po' meno? Eh sì, questa volta ho preso qualche bad bit all'inizio, poi sono stato un po', non proprio short, però sempre sotto i 10.000 e adesso sono uscito. E grande organizzazione comunque di gioco digitale, non solo online ma anche live, perché credo che ormai per te sia un piacere stare qua. Sì sì, anche live, è un bel circuito creato da gioco digitale che si unisce anche altri italiani e molto bello anche questa organizzazione qui a Venezia che ha avuto un sacco di successo.